Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Nicola Guardo Oggi signori Non ci posso credere a quello che sto facendo Oggi siamo su Cleverbot E oggi praticamente, sai cosa facciamo? Diremo alcune frasi Ehm Di manga e anime Cioè praticamente, oh me, questa cosa me la sono Me la sono inviata Per questo momento però, vabbè No, 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 no Porca Madonna, vabbè Eh, faccio un taglio e Faccio un taglio e poi E quando si trova sulla schermata Ok ragazzi, sono tornato di nuovo Dove ero prima, ora iniziamo It's Time Aspetta, it's time To Dual Questa è la lettera da Yugi Muda It's time to do Yes, go more 3 Boh Ehm Allora Ehm Allora No Mi risposto No 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 Applausi Applausi No, vabbè Mi ha risposto Muda 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 No, vabbè Allora dico Allora dico Zaword Zaword Aspetta che lo scrivo Vediamo cosa mi risponde Zaword Stavo chiotto, ma l'è Aspetta Allora Road Roller Ehm No, vabbè E' geniale Le cosce tutte No, vabbè Allora facciamo Ma c'è Aspetta Allora Mi ning le risponde Con Ora 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 Aspetta Adesso C'è un taglio Così Quando Ho scritto Vai Ho scritto Questo Questo Ora Che hai detto questo? Vabbè Ora se ne facciamo Sto Scherzando Paparella Aspetta un attimo Ok Scherzando Paparella Non Ti Volevo Uccidere Con Il mio No aspetta Il mio Stand Il mio stand Ma Volevo Sentire Volevo 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 Capire Se Conoscevi Conoscevi Stardust Crusaders Che lunga è sta frase Che cazzo c'entra Che cazzo c'entra Me le hai chiesto te Ma ti Ho chiesto Ti ho chiesto Mi Io Ti ho Chiesto Se Conoscevi 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 Hai Ragione Ragione Grazie Lol E Lol Lolino Lol 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 Se Mi Azzecca Questa Se Mi risponde Dolly O Molly O Bliss Te lo giuro No Allora Uno Sono Italiano Due Due Sono Sono Cattolico Si infatti Pichiamo se lo fosse chiesto Cattolico Ecco Sei femmina Sono Maschio Ci ho Un E Lungo 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 Quanto Cazzo Scrivendo Quanto La Torre È In Pelle Ma Ma Se Ma Se Sei Ma Se Sei Sei Un Mas 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 Chio Aspetta Un Mas Chio Ma Se Sei Un Mas Chio E An Si An Giusto An 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 Se Fosse Mi Piace Dolly delle super picche ecco, hai capito? ho detto, hai detto che ti chiami chiamami Paola ma che cazzo dice questo? allora guarda lasciamo lasciamo perdere perdere ok? comunque sei maschio o femmina? speriamo maschio sei gay? o vuoi quella risposta? ah e perché cazzo mi avevi detto ah ho capito praticamente funziona così e se è femmina dice che vuole un maschio quindi dice che sei maschio quindi è multisessuale ha capito? quindi non è che ok allora sono maschio ma mi piace aspetta piace è un buon d'asile cosa è l'asile lo giuro dolly dolly e come ti chiami? ok mi ok allora ok mi chiamo Nicola come babbo natale quindi non sei femmina di che cazzo di sesso sei allora vabbè lasciamo stare le cose sporche vabbè insieme a una cosa ok aspetta guardate una cosa allora batter apri facciamo facciamo molly vediamo se mi risponde con un che bel nome no volevo 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 dire volevo dire forse no volevo sapere sapere se conoscevi se conosce amizzica qualche puttata vabbè allora aspetta conosci le power paf girls sono belle se mi spune che sono brutto giuro che l'ammazzo sei bellissima lasciamo stare questa frase perché devi mamma mia dai spingi ma che cazzo sto scrivendo che sto vabbè ok poi facciamo cambiare discorso quando qualcosa altro allora facciamoli dire facciamoli dire ah conosci clash clash royal clash royal si e anche quello è bello e e brawl no aspetta brawl star no aspetta brawl star appena oggi ho finito di fare colazione ho appena finito di fare colazione ma se sono le 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 cinquantasette le 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 DEL POMERIGGIO Allora 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 Che possiamo scrivere adesso? Eh, sì Dobbiamo scrivere al contrario Muda 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 Non si può andare ora o ora? Ok c'è Dio Will bet of you Non so cosa ho detto Però ho risposto Ok Allora dico Rod Roller Oh Rod roller Nani No 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 Ormai Wa Mo Inghissima la zecca Mo Shin Derio Ormai Mo Shin Derio Push Dove miss Vabbè Però ho detto una cosa Ah si Conosci 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 Yu Ghi O Five This Chi non lo conosce? Ma è Ovvio Ma è ovvio La sigla Che ricordi? Aspetta No tu come Tu come Tu ti chiami Ti chiamavi Chiamerai Spazzoide Aspetta Aspetta Il Tuo Drago Di Stelle Di Pol Polvere Mi zecco Questo Ti giuro Lo mette Francesco Ok Allora facciamo Questa cosa Cosa diciamo? Diciamo Diciamo Ah si Ah si Ta 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 No Dice Ta Ma 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 Wa Mo C C D C U Vediamo cosa dice O Ma 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 De Vediamo che dice Non Da Do Quindi è Forse Veramente Vuoi Che Pensavo Avevo I Stari Di Nani Però E comunque Non dai ho Sei Geniale te lo giuro Allora non mi dire Più di queste cose Allora non Non mi dire più queste cose Questa è scema Allora sai cosa posso dire Adesso Allora io volevo dire Si Conosci Il Prof Puntino U-T-O-R-I-U-M Ti No Di No La ir Ce n'è Si Ti ti piacciono ti piacciono i aspetta che lo scrivo aspetta che lo scrivo aspetta che lo scrive qual è il tuo preferito punto di domanda vabbè allora a me piacciono aspetta che ci ha fatto niente niente ma hai detto hai detto che sei maschio anzi anzi anzo se sei femmina fatti un no 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 un cos play di dolly e poi vedremo non ho detto di essere maschio ok allora vestiti non pensate male da dolly e e almeno fatti i codini di dolly ok si può stare i codini li vanno bene allora allora cosa posso fare sei trans vabbè allora ti faccio questo no no questo non posso scriverlo e mi faccio ciao dimmi il tuo titolo ti audio studio e sti gazzi e sti gazzi allora cominciamo subito lì 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 Ok, boh, vorrei, vorrei, boh, vorrei, boh, vorrei. Che ti vesta come Dolly. E poi dicevi che non è, che è di femmina? Non è vero, sono, non è vero bugiarda. Ok, conosci, conosci Nicola, guardo. No, ok, merda. Allora, allora ti spiego tutto. Allora, sono uno youtuber, youtuber, oh, che cazzo? Youtuber, che tratta, ok, che tratta, che tratta, akinator, akinator. 이야기를. Spiega, minator, akinator, brawl stars e tu. perché se fossi ma che cosa mi faresti cosa c'entra con con me mi chiesto di portare gli occhiali è scritto allora non ti amo non ha più senso ok si è fatto tardi e ti va di concludere il video si invece allora con ludi concludi concludi tu ma dimmi bella bella brella brella bella ragazzi bene questo nuovi bella è l'intro bella è l'intro devi dire devi dire devi dire dove ecco l'altro non volevo dirti in bel niente vabbè concludo io mi piace fare sapete altre puntate su clever bot e mi dite anche cosa 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 di linee vari episodi quindi adesso bella ragazzi ciao